Ehi 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 ehi! Ciao a tutti! Benvenuti in questo nuovo vlog! Terzo giorno di vacanza, terzo vlog! Oggi, giornata infinita, scoprirete che ci siamo anche terzi! Ma prima di iniziare, mettete un bel like, commentate qua sotto e condividete! Iscrivetevi al canale! Let's go! It's a new day! Buongiorno! Programma di oggi! Gita, ossia, teniamo la seggiovia che è qua davanti. Facciamo una passeggiata, raggiungiamo un laghetto, scendendo giù andremo a visitare una chiametta e faremo un ritorno lungo lago. Yo! Let's go! E andiamo! Sono a casa! Vai! Wow! Che caldo! Sono a visitare a Rio de Janeiro! Woohoo! Vai! Woohoo! 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 Allora, ho male all'orecchia, quindi ho deciso di optare per questa bellissima cosa molto sexy, anche al contrario. Sto cadendo giù? Poi puoi fare così. Wow! Che bello! Comunque, ci siamo persi, cioè abbiamo perso la cartina, quindi ci perdiamo sicuro, però abbiamo i mirtili per sopravvivere, uno a testa, per sempre. Yeee! Bella raga! Qua ci siamo arrivati! Fai vedere l'alto! Si vede, si vede! Che figlio! Uhuuu! Anche le montagne! Guarda che bello! Vai! Due, uno! Uuuu! Raga, guardate quanti mirtilli c'è, ma è pieno! Raga, ho rischiato di morire! Non sono mirtilli! Non è la pianta dei mirtilli! E guarda che guarda! Guardate quanti ne raccolti! Guarda, guarda, un altro detto, è brutal! E guarda quelli di mia mamma! Dico, ma sono diversi! Niente, dovete sapere che siamo sempre più persi nel nulla. Pure mio padre ha detto che non sa dove sta andando, quindi è grave! Raga, incredibile! L'abbiamo trovato! E' fatta! arrivati raga non ci siamo persi la capra raga buon appetito allora siamo nel bosco no e ritorna e ti mangia anche l'altra poi ti lascia lì a pezzi mangio al naso tu non puoi scappare perché lo scappi sui gomiti e vabbè e 3 2 1 andiamo 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 a camminare sbagliato ho detto camminare raga siamo arrivati guardate sono i parenti di jane oh mio dio aiuto siamo circondati da mucche questa c'ha un incoso per la bocca non mi piace tanto allora stiamo ripartiti e mancano due ore ad arrivare in albergo sono le tre e mezza guardate c'è di nuovo jade jane vieni vicino che c'è la tua xosia amore si fa toccare guarda amore belin raga abbiamo un male alle ginocchia che non ce ne sentiamo più belin non me ne sento più che ne è diventato meschimese raga siamo arrivati sul lago finalmente sul lago siamo su una passerella dopo esattamente 16 chilometri di passeggiata passiamo in mezzo alle canne ripartiti 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 Sì, ci vediamo alla cena! Bello in muerte stasera! Ragazzi, siamo appena fermati in camera, abbiamo usato pronto! Quando torniamo, spettino! Maia? Maia è un bambino in pancia! Lo chiamo? Jacky Maialino! Vabbè, ora giochiamo un po' a carte!